dunque oggi proviamo a fare un primo esercizio in cui costruiamo un grafo partendo dalle informazioni contenute in un database allora per iniziare con qualcosa di relativamente semplice da comprendere ho riesumato un dataset che abbiamo usato nel 2016 se non sbaglio in un tema d'esame in cui sono codificate alcune informazioni sulla metropolitana di Parigi quindi si presta abbastanza facilmente a essere concepito con un grafo in cui le connessioni siano i tratti di metropolitana tra le varie stazioni quindi se volete ieri sera ho già pubblicato il progetto su cui lavoriamo oggi si chiama Metro Paris sulla solita area TDP 2019 e questo è il progetto che mi sono già cronato prima di venire qua per risparmiare un po' di tempo il database in qualche modo cerca di rappresentare questa mappa che appunto corrisponde alla metropolitana di Parigi scelto Parigi perché essenzialmente ha una cognitività abbastanza ricca cioè ha molte linee di metropolitana diverse, molte stazioni e ogni stazione, vedete questi pallini, può ospitare diciamo così una o più linee allora le informazioni su questa, alcune informazioni non ci sono tutte su questa mappa sono riportate in questo database che si chiama metroperis.sql che adesso proviamo a guardare, lo importiamo quindi lo prendiamo da qua metroperis database database sql e questo database metroperis è composto da tre tabelle una si chiama connessione, una fermata, una linea ok nel progetto c'è anche il disegno del diagramma entità relazioni di queste classi quindi forse è più facile da leggere di qua che non direttamente dalle tabelle qui ne abbiamo una tabella fermata che contiene un identificativo della fermata il suo nome e le coordinate x y ok, se lo vediamo qua i dati di fermata sono di questo genere i di fermata, nome della fermata e coordinate e questo corrisponde grosso modo ai vari puntini non grosso modo, dovrebbe corrispondere esattamente ai vari puntini della mappa alle varie fermate della mappa sono qualcosa come 619 fermate diverse poi c'è l'informazione sulle linee le varie linee di metropolitana che sono appunto queste con colori diversi e le informazioni sulla linea sono per ciascuna linea sappiamo un identificativo che per motivi diciamo miei di importazione probabilmente partono da 1024 ma senza nessun motivo vero un nome di una linea C2, E2, E4 eccetera e altre informazioni sulla percorrenza ad esempio la velocità media delle vetture su quella linea che pare sia dei 55 km all'ora per quasi tutte ma alcune vanno più lente per qualche motivo loro l'intervallo tra due vetture successive l'intervallo medio tra due vetture successive quindi ad esempio su questa linea qua C46 le vetture vanno a 55 km all'ora e mediamente arriva una nuova vettura ogni 15 minuti quindi questo ci può permettere di stimare quelli che sono i tempi di attesa che mediamente saranno la metà di questo intervallo e i tempi di percorrenza che dipendono dalla velocità del mezzo e dalla distanza tra le stazioni poi io avevo trovato e non l'ho buttato via anche l'informazione sul colore con cui sono disegnate le varie linee sulla mappa ma è un'informazione che è abbastanza poco interessante queste sono due informazioni statiche quali sono le linee e quali sono le stazioni e poi c'è la tabella connessione che le lega e di fatto la tabella connessione rappresenta ogni singolo tratto di metropolitana quindi ce lo immaginiamo come ogni singolo segmento su questa mappa questo segmento ad esempio che va da qua a qua collega questa stazione con questa stazione attraverso questa linea quest'altro segmento collega questa stazione con questa stazione attraverso sempre questa linea gialla e così via quindi ognuno di questi segmenti è codificato in questo database con una nuova connessione quindi lo vediamo ad esempio che la connessione numero 100 questo è un identificativo che di per sé non significa nulla collega la stazione 361 alla stazione 362 attraverso la linea 1028 questi sono tutti i D bisogna chiaramente andare a vedere qual è quali sono le stazioni corrispondenti e qual è la linea corrispondente visto in modo diverso se noi ordiniamo per i D di linea praticamente abbiamo il percorso che fa la linea la linea 1031 parte dalla stazione 61 poi arriva la 30 dalla 30 vabbè può tornare indietro oppure può andare alla 14 dalla 14 posso andare a 254 254 alla 197 abbiamo tutti uno dopo l'altro un pezzettino dopo l'altro il percorso che fa una determinata linea qui non è non c'è un'informazione sull'ordine qual è la fermata la prima la seconda la terza la quarta in qualche modo se ci serve se la dobbiamo ricostruire così come non c'è l'informazione sui capolinea ma il capolinea sarà ovviamente quello che ha per ogni stazione mediamente su una determinata linea o una stazione precedente e una successiva i due capolinea invece ne avranno una sola ma queste sono tutte analisi che potremmo fare questi sono i dati che abbiamo a disposizione sono i dati che ho trovato in un altro formato e ho messo diciamo così in ordine in SQL ok fatto questo cosa vogliamo realizzare? ma noi vogliamo provare a realizzare come prima cosa un piccolo grafo che rappresenti una delle tante rappresentazioni che possiamo dare su questa mappa questa di per sé qui potremmo fare tante cose potremmo ragionare su le stazioni e le linee che collegano le stazioni oppure i tratti di linea che collegano le stazioni per fare un esempio pratico tra queste due stazioni fatemene prendere due qualunque questa qua Concorde e Madeleine sono due fermate diverse o due linee diverse che le collegano allora queste informazioni sul fatto che io abbia due linee diverse che possono fare questo tratto mi interessa o no? la voglio rappresentare o no? nel grafo? vabbè dipende ovviamente che cosa voglio fare no? a quali domande voglio dare risposta perché questo mi richiederebbe di costruire grafi di tipi diversi nel caso più semplice io posso dire che queste due stazioni sono collegate punto grafo semplice e mentre che ne so Concorde e Pondell'Alma non sono collegate grafo semplice orientato o non orientato beh se do per scontato che ogni linea sia sempre comunque bidirezionale potrei anche rappresentare il grafo non orientato tanto se sono collegate vorrà dire che ci sarà sia la vettura che va che la vettura che torna posso darlo per scontato? Boh se non ricordo male direi di no perché ad esempio c'è questa parte qua della linea 7 bis che invece viaggia in un senso unico quindi ad esempio da questa stazione Bozartis a questa Place de Fet vai solo in un senso ma non puoi tornare indietro se leggo bene questa questa tabella no questo grafico quindi per colpa di questi due tratti qua mi pare che siano gli unici che hanno una cosa di questo genere in tutta la mappa per colpa di quei due tratti devo necessariamente trattare come orientato questo grafo però possiamo dicevo trattarlo come un grafo semplice oppure potrebbe se vogliamo in qualche modo ricordarci che tra queste due stazioni ci sono due linee potremmo pensare di rappresentare un grafo pesato in cui il peso sia il numero di linee che collegano oppure se vogliamo proprio sapere quali sono le linee avremo bisogno di un multigrafo etichettato in cui multigrafo tra due vertici voglio indicare due archi quello verde e quello violetto e poi voglio avere l'informazione su qual è la linea corrispondente a quell'arco quindi a seconda del tipo di informazione che mi servirà dovrò rappresentare più o meno dettagli anche all'interno del grafo quindi non c'è mai una risposta unica in questo caso andiamo per gradi e il primo passo di questo esercizio come indicato qua sul testo dell'esercizio è di creare un grafo semplice orientato e non pesato in cui ciascuna fermata corrisponde a un vertice del grafo e due vertici siano collegati a un arco se solo se esiste almeno una connessione tra le due fermate a prescindere dalla linea a cui appartiene questa connessione cioè nel fare un grafo di questo genere stiamo buttando via tutta l'informazione sulle linee e quindi anche eventuale informazione sul cambio di linea che noi non avremo per noi il fatto che Invalid Concord e Madeleine siano sulla stessa linea oppure Invalid Concord e Tuilerie siano su due linee diverse ce lo perdiamo come informazione perché vedremo solamente che c'è un arco tra queste tre e un altro arco uno, due, tre ma il fatto che qua Concord devi cambiare in questo nostro primo grafo è un'informazione che viene persa vediamo poi se ci serve come far recuperarla però ovviamente dobbiamo partire da qualcosa di più semplice e allora creiamo il grafo creiamo il grafo andiamo direttamente nel nostro progetto Java in cui io ho già caricato comincia a diventare un po' corposo il progetto nel senso che noi avremo come libreria ovviamente jgraph.t ma per poter leggere il database abbiamo bisogno di SQL Connector e Ikari come connection pooling che si porta dietro la libreria di logging quindi queste quattro qua 1, 2, 3, 4 ci servono per accedere al database e poi poiché la fermata ha codificato al proprio interno anche le coordinate x e y longitudine e longitudine io potrei memorizzarle nel mio database come due double in realtà ho trovato una libreria si chiama simple lat lng simple latitude and longitude che contiene un oggetto appunto che si chiama lat long che è una rappresenta essenzialmente al suo interno già le coordinate dell'altitudine e longitudine e ha un paio di metodi il nome è simple quindi molto facile da usare ha dei metodi che ci permettono di calcolare la distanza tra due punti senza doverci mettere qua a farci un pomeriggio di trigonometria solida per capire date le due coordinate in gradi quali sono qual è la distanza in chilometri essenzialmente tra i due punti quindi mi sono portato dietro anche questa libreria perché mi faceva comodo per rappresentare queste due coordinate se ci dovesse servire a ragionare anche sulla posizione fisica dei punti sulla mappa ok ma questo è già tutto nel progetto così come all'interno del progetto per risparmiare tempo all'interno del package model ho già costruito le classi base per rappresentare gli oggetti quindi ho fatto già il piccolo passettino di ORM in cui la classe fermata modella questa classe del database quindi ID fermata nome e coordinate attraverso l'attributo ID fermata nome e coordinate non le ho tenute separate le coordinate ma le ho messe in un unico oggetto di tipo latitudine e longitudine e poi getter sector hash code sull'ID fermata e basta idem per linea che è anche qua ho l'ID della linea nome, velocità intervallo ora ho portato esattamente gli stessi dati un pochino più complicata è la tabella connessione perché al suo interno di fatto la tabella connessione poverina non contiene informazioni di suo contiene un suo ID e poi l'identificativo di qual è la linea e qual è la fermata di partenza e di arrivo di quel tratto di strada di quella connessione e quindi mapparlo in Java significa che questa classe avrà un ID che è un intero e poi linea stazione di partenza stazione di arrivo sono a loro volta riferimenti all'oggetto linea e all'oggetto fermata come le regole che ci eravamo dati quando abbiamo parlato di object relational mapping ci siamo detti io qui non ci vado a scrivere l'ID della linea come numero intero ci vado a scrivere direttamente l'oggetto linea che rappresenterà quella linea lì nel database in connessione qui ho 1030 ma nell'oggetto connessione non vado a mettere l'int che vale 1030 vado a mettere direttamente riferimento a un oggetto che ovviamente dovrò aver creato prima quindi come prima cosa per poter ragionare su queste connessioni dovrò avere creato oggetti linea oggetti fermata a cui agganciarli quindi qua ci accorgeremo che poi nel DAO dovremo fare qualche lavoro in più ma è poi un problema che risolveremo più avanti quindi ogni volta che abbiamo delle classi che contengono dei riferimenti delle chiavi esterne essenzialmente riferimenti di altre classi quando ci li portiamo in Java dovremo poi chiederci sì ma questo riferimento come faccio a crearlo non è argomento di oggi ok cosa ci chiede di fare è costruire un grafo quindi la prima cosa che devo chiedere devo fare è costruire l'oggetto grafo e creare un vertice per ciascuna fermata quindi la prima cosa che dovrò fare è avere l'elenco interrogare database per avere l'elenco delle fermate queste fermate mi serviranno per popolare i vertici del grafo allora questo è un lavoro tipicamente che potremmo fare dentro il model quindi sempre dentro il model facciamo pure una classe model perché è quella che gestirà le informazioni sul grafo in generale sul problema e questa classe model che cosa fa? per il momento avrà i metodi per creare questo grafo e tenerlo memorizzato quindi questa classe model avrà internamente gestisce il grafo e espone all'esterno dei metodi con cui costruire oppure analizzare oppure ricercare informazioni all'interno del grafo metodi che scopriremo leggendo cosa si chiederà l'esercizio di fare per il momento dobbiamo crearlo quindi per poterlo creare come prima cosa lo istanzio quindi ho una variabile di tipo graf e di qua devo decidere di che tipo è il vertice e di che tipo è l'arco in questo caso abbiamo un vertice che rappresenta le fermate quindi posso usare l'oggetto fermata e l'arco dovrà essere un grafo orientato non pesato ricordiamoci cosa ci chiedeva nella prima nella prima versione questo esercizio perché poi dopo ci dirà ce lo complica ci fa delle ipotesi più avanzate ma nella prima versione ci dice che due vertici sono collegati in un grafo non pesato solo se esiste almeno una connessione quindi che ci sia una che ci siano sette non ci interessa ok quindi in questo caso un grafo non pesato e quindi come arco posso usare default abbiamo imparato ieri edge grafo e quindi a questo model potrò dare ad esempio un metodo public crea grafo che creerà un oggetto grafo e lo riempirà con le informazioni che provengono dal database quindi in questo caso come prima cosa lo creo allora ho bisogno di un grafo semplice orientato non pesato se non sbaglio siamo su simple del rete grafo se mi ricordo se volete potete andare a fare il giochino che abbiamo fatto ieri per andare a filtrare qual è la classe da usare la classe concreta da usare per istanziare questo grafo con arco ovviamente default edge punto class punto e virgola qui abbiamo creato un grafo vuoto del tipo giusto del tipo fermata adesso devo avere tutte le fermate in qualche modo a chi me le dice le fermate in qualche modo le devo leggere nel database allora io sono fortunato perché qualcuno ieri sera ha scritto il DAO no in realtà 4 anni fa l'avevo scritto dove c'è già un metodo get all fermate che interrogando il database qui non c'è nulla di speciale fa una query di tutta la tabella e per ogni elemento della tabella crea un nuovo oggetto fermata l'unica stranezza è che le due colonne coordinate x e coordinate y vengono usate per creare un unico oggetto di tipo latitudine e longitudine della libreria di cui abbiamo parlato prima e quindi questo è facile per me a questo punto memorizzare all'interno del modello una lista di fermate lo salvo qui perché magari potrebbe servirmi avere già salvata la lista di fermate che ovviamente ottengo dal database quindi potrò quindi diciamo ciò che sto facendo è il primo passo è creare l'oggetto grafo poi devo secondo passo è aggiungi i vertici aggiungere i vertici significa innanzitutto sapere quali sono e poi aggiungere il grafo ok aggiungere i vertici basta devo chiedere al DAO quindi avrò un metro DAO si chiamava uguale new metro DAO e quindi le fermate le ottengo chiedendo al DAO di darmi tutte le fermate allora una volta che ho le fermate le posso aggiungere al grafo come vertici ho il metodo add vertex che mi permette di aggiungere una a una ma avevamo già visto ieri che per comodità nostra c'era graphs.add all vertices a cui posso passare il grafo e la collection una collection che contenga i vertici in questo caso la fermate e questa è la parte facile la parte facile perché in questo grafo c'è un map indiretto tra gli elementi di una tabella e i vertici del grafo che voglio costruire poi dobbiamo aggiungere gli archi allora sulla giunta degli archi vedremo tre modi diversi di procedere ok tre modi diversi che fanno parte tre macro modi poi in realtà ce ne sarebbero probabilmente 300.000 piccole varianti ma tre approcci generali nei quali cerchiamo di bilanciare o di scegliere se mettere la complessità più nel codice java mettere la complessità di più invece nell'acquire il database allora la cosa più semplice per diciamo così concettualmente per aggiungere i grafi è fare ciò che viene detto due vertici saranno collegati da un arco se e solo se esiste almeno una connessione tra due fermate allora io ciò che posso fare è prendere tutte le possibili copie di vertici tutte le possibili copie di fermate e chiedermi tra queste due fermate c'è una connessione almeno una sì no se sì aggiungo l'arco se no non faccio nulla questo è molto diretto molto semplice come approccio quindi io posso avere due cicli in cui ragiono sulla fermata di partenza prendendola da dove da tutte le possibili fermate non ad vertex 7 quindi per ogni fermata presente nel grafo la considero come possibile stazione di partenza e poi mi chiedo andando a navigare di nuovo su tutte le stazioni le fermate del grafo vedo se queste altre possono essere possibili stazioni di arrivo quindi for fermata arrivo due punti dis punto grafo punto vertex set e dai allora in questo caso dentro questi due cicli for sto enumerando tutte le possibili combinazioni di stazioni di partenza e stazioni di arrivo e mi posso chiedere esiste un arco esiste meglio una connessione tra la partenza e l'arrivo se sì aggiungo l'arco se no no esiste connessione sarà un metodo che dovrà interrogare il database per sapere se effettivamente questa connessione c'è o no al momento non lo possiamo sapere l'unica cosa che abbiamo letto del database è l'elenco delle fermate alla fine di questo doppio loop avremo fatto tutte le prove tutti i tentativi possibili di copie di stazioni e quelle per cui esiste una connessione saranno state memorizzate nel grafo attraverso un arco tutte le altre invece non hanno generato nuovi archi questo esiste connessione dovrò fare una query di che tipo devo andare a cercare nella tabella delle connessioni front connessione where dunque abbiamo connessione contiene il campo di stazioni di partenza e di stazioni di arrivo quindi quando id stazione di partenza è un certo valore prendiamone uno ne copio due 14 e 30 and id stazione di arrivo uguale 30 e di questa interrogazione questa mi dà la connessione che esiste tra queste due stazioni potrebbe esserci più di una se avessimo scelto due stazioni tra le quali passano due linee diverse in questo caso passa la linea 1031 che corrisponde alla linea B cosiddetta ok però torniamo qua a noi che cosa interessa di tutti questi dati nessuno ci interessa che ci siano i dati perché la differenza se avessi messo una stazione non esistente cioè non esistente un'altra stazione che esiste ma non è collegata direttamente alla 14 la query mi avrebbe restituito 0 righe quindi a me interessa sapere quante righe contiene questa query allora il modo più semplice visto che mi interessa solamente sapere quante righe ha è contarle quindi il count mi dà 0 se la stazione non è collegata mi darà 1 se la stazione è collegata diamo solamente un nome un pochino più umano a questa colonna questa è la query che ci serve che dovrà essere richiamata da quel metodo esiste connessione esiste connessione questa è una query che mi situerà sempre solo una tabella di una riga per una colonna e a me interessa sapere se il valore che c'è in quella riga in quella casella è 0 oppure 1 è 0 oppure maggiore di 0 potrebbe essere 1 o più di 1 nel caso di linee multiple allora proviamo a incapsulare questo dentro un metodo del DAO che faccia questo lavoro qui quindi dentro il nostro metodo DAO aggiungiamo un nuovo metodo questa volta non c'è stata una manofattata che l'ho scritto prima quindi ci tocca scriverlo public boolean come l'ho chiamato esiste connessione tra una fermata di partenza e una fermata di arrivo per implementare questo sappiamo che dovremo fare un'interagazione di questo tipo quindi fatemi prendere la query da qua no copia incolla formattiamola un pochino e al posto del 14 del 30 chiaramente ci metteremo i punti erogativi che sono i parametri sulla base del quale ripetiamo la stessa query con valori diversi e vabbè a questo punto prendiamo una connessione dal nostro connection pool creiamo uno statement fin qua prepare isprime del nostro SQL impostiamo i parametri quindi set int dell'id di stazione di partenza quindi il primo parametro corrisponderà a partenza punto get id fermata e il secondo parametro corrisponderà alla stazione di arrivo quindi arrivo punto get id fermata adesso qui si arrabbia perché non abbiamo messo tutto dentro un try catch ma noi lo facciamo subito e a questo punto avendo pronto lo statement da inviare lo inviamo result set uguale statement punto execute query se tutto va bene dentro il result set avrò un risultato solo avrò una riga sola composta esattamente una riga posizioniamoci posizioniamoci sulla prima riga prima e unica riga perché pur se in una riga sola il result set parte dalla riga prima della precedente quindi non ho bisogno di fare un ciclo while perché so già che non avrò molte righe mi posiziono sulla prossima che sono sicuro che ci sia e avrò il risultato quindi il numero di connessioni che mi viene dato da get int della colonna che si chiama cnt e quindi se il numero è maggiore di zero è maggiore di zero ritorno true se il numero è uguale a zero ritorno falso quindi avrò un return numero maggiore di zero ma prima di far return devo ricordarmi di restituire la connessione al pooling perché di qui ne stiamo facendo tantissime perché siamo dentro un doppio loop e se non restituiamo le connessioni esauriamo molto in fretta quelle che il pool ci dà a disposizione quindi se il numero è maggiore di zero ritorna vero se il numero non è maggiore di zero quindi non potrà altro che essere uguale a zero ritorna falso ok quindi se torniamo al nostro modello questo esiste connessione è un metodo del DAO che mi dà direttamente un valore booleano che posso usare qua in questa if e mi dice se devo aggiungere l'arco o se non devo aggiungerlo fine ho creato il grafo allora proviamo a perché mi dà ancora errore questo ah sì perché non c'è il return in questo caso nel caso in cui ci sia stata un'eccezione ok allora per provare se il tutto funziona possiamo aggiungere una classe di test del modello test model con il suo bravo main la quale crei un nuovo modello e provi a creare un grafo chiede al modello di creare il grafo corrispondente alla metropolitana poi per vedere qualche cosa magari ci aggiungiamo nel nostro modello un getter per l'oggetto grafo quindi source aggiungi getter setter al set grafo nuovo di sicuro anche le fermate potremmo usare get fermate in modo che dall'esterno possano vedere le informazioni che il modello ha calcolato e così il nostro test model possa alla fine stampare mmodel.getgrafo allora quindi noi chiamiamo questo crea grafo che farà tutto il lavoro essenzialmente l'ondata aggiungi i vertici e questo è facile una volta che le fermate aggiungi gli archi andando a considerare tutte le possibili copie di vertici vediamo se funziona ok è partito e sta lavorando sta facendo qualcosa cosa sta facendo sta facendo query se noi andiamo a vedere qua attraverso ID riesco a farmi dire che cosa sta facendo il database vedete che il database sta facendo tante volte questa query qua in questo caso stazione partenza uguale a 38 stazione di arrivo uguale 480 se io riaggiorno questa vedete che cambiano i numeri 62 610 68 529 ogni tanto ogni volta che rinfresco mi da 73 114 un valore diverso 77 300 eccetera eccetera quante query deve fare e tante quante sono le fermate al quadrato le fermate sono 619 e quindi lui dovrà fare 619 per 619 query che sono un numeretto non esagerato però comunque 380.000 query richiedono il suo tempo quanto tempo richiedono ecco nella nostra query quando la eseguivamo in modo interattivo il database ci diceva che la query era vabbè a volte 0 a volte 16 15 0 0 15 dipende chiaramente il timer non è precisissimo dipende cosa va a misurare però siamo nell'ordine di una decina di millisecondi 0 15 facciamo una media nei numeri che si è andato bisognerebbe cronometrarla e allora se questo è il numero di interrogazione che devo fare moltiplicate per 10 millisecondi ciascuna quindi 0 virgola 0 1 10 millisecondi sono un centesimo di secondo e dovrò aspettarmi mannaggia 3.800 secondi quindi ci vediamo tra un'ora abbondante poi ci arriva eh per carità siamo sicuri a te è andato allora li ha messi tutti vabbè lui sta andando avanti l'approccio l'approccio non è sbagliato se noi anziché 600 stazioni ne avessimo 40 non sarebbe un problema ok allora cosa possiamo fare quindi l'approccio è più semplice però rischia in molti casi questo approccio di essere un po' troppo lento rispetto alle nostre esigenze perché fa un numero esagerato di interrogazioni ogni volta che c'è qua fa una nuova query qui abbiamo già il connection pooling quindi il problema non è quello di aprire delle connessioni il problema è proprio il tempo fisico di fare quell'interrogazione avere risultato per avere poi un'informazione molto molto basica semplice un sì e un no allora cosa possiamo fare va o no? in quanto tempo? 20 secondi per farsi i 100.000 query non ci credo non ho sbagliato i conti 619 e allora poi controlliamo perché vi vengono 600 a vertici ok cerchiamo di capire perché perché non ok pare che qualcuno fortunato abbia compiuto il computer troppo veloce ma questo è un approccio possibile ok che può essere o non essere accettabile come tempi ovviamente non è l'unica arma a nostra disposizione ciò che stiamo facendo qua è di sfruttare o meglio non sfruttare il database per ciò che è capace a fare ogni volta che abbiamo bisogno di un dato glielo andiamo a chiedere quindi quel database che è capace di fare cose complicatissime indici query in realtà lo stiamo semplicemente usando per dire dammi una riga delle tue tabelle e ogni volta devo fare tutto il giro costruirla qui rimandarla riceverla eccetera eccetera però se io riosservo questa interrogazione che abbiamo fatto togliamo un attimo il count quindi ti ho chiesto una sola riga della tabella connessione ma già che ci sono non mi costerebbe nulla chiederti tutte le righe in cui la stazione di partenza sia 14 ce ne sono due e in particolare 30 e 254 sono le stazioni d'arrivo quindi io potrei ad esempio solamente chiedermi l'id stazione di arrivo data una determinata stazione di partenza allora in questo caso mi posso posizionare su ogni vertice 630 volte e per ogni vertice fare una query chiedendo dimmi tutti gli archi uscenti da questo vertice e il database e il database alla fine con lo stesso costo guardate il tempo è sempre quello approssimato a zero con lo stesso costo con cui il database mi dice c'è un arco a lui costa uguale darmeli tutti quindi in questo caso possiamo ragionare dicendo quindi questa è opzione 1 invece in alternativa l'opzione 2 potremmo dire ragioniamo sempre su tutte le fermate di partenza ma per ogni fermata di partenza chiediamo al database che ci fornisca già la lista delle stazioni di arrivo quindi vogliamo una lista di fermata poi decidiamo di che cosa vogliamo la lista per ora fatemi scrivere fermata che sono gli arrivi possibili collegati a queste stazioni di partenza e questo lo possiamo chiedere con una query unica diciamo stazioni di arrivo della stazione di partenza che ho scelto a questo punto data una stazione di partenza ho un elenco di stazioni di arrivo e aggiungo questi archi tutti rapidamente al grafo quindi ovviamente dovrò iterare su questa lista arrivo due punti arrivi e per ciascuno di questi aggiungerò un edge partenza arrivo quindi faccio un livello di iterazione in meno in java a questo punto la query anziché restituirmi un valore mi restituirà un insieme quindi un arco mi restituirà un insieme di valori ossia l'insieme di archi uscenti da questo numero di partenza e questi li aggiungo tutti in un colpo solo quindi ho diviso per 600 il numero di query che faccio quindi proviamo a implementare questo metodo stazioni di arrivo crea un metodo lista di fermate in cui incapsuliamo la stringa simile a quella che abbiamo detto qua dammi gli identificativi della stazione di arrivo delle connessioni in cui ti specifico io qual è la stazione di partenza e ciò ciò che ti restituisco lui mi dice che è una lista di fermate allora a questo punto semplicemente eseguiamo la query quindi quindi connection connection uguale db connect get connection prendo la connessione dal pool creo uno statement lo statement fin qua queste cose oramai sql poi qui devo mettere try catch a questo punto imposto il parametro che sarà ho un parametro solo questa volta che è l'id della stazione di partenza e eseguo la query a questo punto il result set non è più una casellina solo sarà un elenco nel caso più sfortunato la stazione che ho scelto è un capolinea e quindi avrà una sola stazione collegata nel caso normale sarà una stazione intermedia e avrà due stazioni collegate una prima e una dopo e nel caso invece di stazioni in cui ci sono delle coincidenze avrà delle coincidenze tra più linee ovviamente avrà più stazioni collegate e io creo questa lista list fermata result uguale new array list di fermata e scandendo result set creo tutte queste fermate quindi avrò un result punto add di un nuovo fermata con i valori che prendo dal database e alla fine poi ci torno su questa linea restituirò il risultato non prima ovviamente di aver chiuso la connessione quindi dobbiamo sempre ricordarcelo prima di fare return ricordarci di chiudere la connessione se invece è andato qualcosa male magari ritorniamo null così il chiamante non può non accorgersene adesso l'unico problema che abbiamo a questo punto è che io qua dovrei creare un oggetto fermata ma la mia query non mi dà le informazioni che mi servono per creare un oggetto fermata l'oggetto fermata è composto da un id un nome e le coordinate e la query così come l'ho creata non mi dà mi dà solamente degli interi allora come posso fare? posso fare in vari modi il primo modo ma che significa semplicemente spostare il problema è dire vabbè sì non ti restituisco una lista di fermate ma ti restituisco una lista di interi quindi io DAO me le lavo le mani ti do dei numeri interi e tu model arrangati quando sono dato con il numero intero a trovare l'oggetto fermata corrispondente perché ovviamente se il problema non lo risolve il DAO lo deve risolvere il model perché quando faccio add edge non gli posso passare un intero gli devo passare per forza un oggetto fermata un vertice quindi qualcuno deve darmi il modo di passare dall'intero all'oggetto fermata possiamo decidere se lo fa il DAO e restituisce un oggetto fermata oppure se lo fa il model e quindi il DAO restituisce una lista di integer però a questo punto la domanda che ci facciamo è come faccio avere le informazioni per costruire l'oggetto fermata potrei complicare la query a questo punto qua non mi costa niente fare un join con la tabella fermata e a portarmi dietro anche tutte le informazioni sulla fermata fermata 14 qual è? ok prendo tutte le altre informazioni e così qua nel result set no lo so nel DAO nel result set avrò tutti i campi che mi servono per creare veramente un oggetto fermata lo possiamo fare un po' la pirla ecco se mi permettete perché l'ho appena fatto l'ho appena fatto nel metodo dov'è? get all fermate queste informazioni sulle fermate le ho già lette le ho già in una lista perché devo ricreare un altro oggetto nuovo distinto che in realtà sarà uguale ad un oggetto che ho già quindi potrei andare a cercarlo potrei dire ma allora chi mi vieta si visto che ho l'ID di andare a cercare dentro la lista di fermate che ho già letto quale sia la fermata che ha quell'ID specifico e poi a questo punto restituisco l'oggetto fermata che abbia quell'ID questo implica che cosa? implica che all'oggetto al metodo stazioni di arrivo venga passata la lista di stazioni di fermate perché lui non ce l'ha la lista di fermate è una variabile del model non del DAO e noi ci siamo sempre detti che il DAO non deve avere variabili di stanza non deve avere variabili sue perché i vari metodi devono essere chiamabili in modo intercambiabile quindi complica un pochino la cosa e poi il DAO deve scandirsi la lista dicendo ok io ho la fermata numero 37 allora andiamo a scandire tutta la lista andiamo a vedere qual è quello che ha l'ID uguale a 37 e poi facciamo un get di quell'oggetto lì e lo aggiungiamo alla lista result che è anche un po' stupidino perché vuol dire andarsi a scandire la lista tante volte sarebbe tanto comodo avere una mappa una mappa che ti dia dato l'ID dammi l'oggetto cioè nel momento in cui la get all fermate mi restituisce la lista di fermate lì non mi costa niente costruire anche una mappa che data la chiave primaria della tabella id fermata id fermata mappi l'oggetto completo lo stesso oggetto che metto nella lista però a volte mi può servire la lista per scandirla quando devo scandirle tutte a volte mi fa comodo la mappa per trovare un elemento al volo quando conosco l'ID allora questa tecnica qua di usare delle mappe per velocizzare questa operazione la raccontiamo un altro giorno prenderà il nome vi dico solo il titolo di identity map cioè una mappa per garantire l'identità degli oggetti e ci permette di evitare di ricreare lo stesso oggetto più volte quando l'abbiamo già fatto almeno una volta questa è una soluzione possibile che in molti casi diventa quella preferibile è la soluzione generale in realtà qua quindi abbiamo detto facciamo degli interi non ci piace abbiamo detto scandiamo la lista non ci piace abbiamo detto facciamo la mappa sì ma è complicato lo facciamo un altro giorno e cosa ci rimane? barare costruiamo una fermata finta fasulla senza dati tanto a cosa serve questo oggetto fermata? è un oggetto effimero lo restituisco lo restituisco in una lista e l'unico scopo che ha questa lista è dire al grafo tra quali vertici aggiungere l'arco ma io non sto dicendo che il grafo deve aggiungere il vertice partenza e il vertice arrivo che gli passo io deve aggiungere un arco tra un vertice di partenza e un vertice di arrivo che esistono già nel grafo li ho già messi dentro prima e io ti devo dare semplicemente un oggetto che sia equals a quel vertice di partenza e a quel vertice di arrivo per permettere di identificarli ma l'equals dell'oggetto fermata su che cosa lavora? sull'ID quindi l'unico campo veramente necessario in questo caso perché in realtà non sto usando l'oggetto fermata lo sto usando semplicemente per identificare un vertice del grafo cioè un altro oggetto fermata che avevo già creato prima completo di tutto quindi se io creo un oggetto in modo pigro quindi l'oggetto fermata gli passo lui cosa vorrebbe il costruttore? vorrebbe l'ID fermata il nome e le coordinate e io non gliele do cioè gli do l'ID fermata che sarà result set punto get int della colonna che si chiama ID stazione di arrivo e poi gli altri due parametri che lui si aspetta non gliele do quindi questa new fermata int di fermata glielo passo string nome null latitudine longitudine null è un po' barare però non troppo l'importante è che questi oggetti qui li ho chiamati prima effimeri cioè li usiamo per uno scopo poi facciamo in modo che non rimangano in giro nel programma perché andare in giro con degli oggetti inizializzati solo a metà significa andare in cerca di guai allora se è così in realtà dovremmo essere a posto allora abbiamo scandito la lista solamente entrostazione questo oggetto è fermata questo oggetto è fermata arriva all'add edge il quale cosa fa? andrà a cercare nei vertici quello che è uguale un set lavora sulla funzione di hash quindi lo troverà subito facilmente andando semplicemente a calcolare la funzione di hash dell'id e poi aggiunge l'arco si crea l'oggetto arco e questi due oggetti partenza arrivo in realtà non mi servono beh partenza era per carità un oggetto completo l'ho preso dal grafo arrivo semplicemente un oggetto di comodo che capita essere equals a un altro oggetto che c'è già dentro il grafo allora questo tutto questo in teoria vediamo in pratica innanzitutto vediamo il nostro programma di prima si sta ancora girando si no ha finito ma non non ha stampato niente non so se l'ho interrotto per sbaglio vabbè proviamo a vedere questa seconda versione come si comporta salviamo il DAO rilanciamo il model e in questo caso no c'è qualcosa che non va perché mi mette dei null qua come stazione di arrivo tutti i null come stazione di arrivo allora cosa c'è che non va arrivi spendiamo due minuti a fare debugging come come ah c'è un nome null no ma l'oggetto che c'è nel database non dovrebbe ma io non sto stampando il grafo non dovrebbe avere oggetti con il nome null adesso ci arriviamo allora quindi il risalto in questo momento è una lista di fermata i D62 i D63 giustamente stampa null qua perché sono gli oggetti diciamo non interizzati poi quando torna su arrivo è questo oggetto qua i Dfermata 249 io dovrei però aggiungere un arco tra questo vertice 2 e il vertice e non lo dovrebbe aggiungere a questo punto nel grafo e qui non è facile da andare a leggere perché sono tanti vertici andiamo fino al ritorno della funzione ok perché i vertici del grafo hanno tutto il nome e gli archi fatemi vedere cosa ho fatto qua sul getto fermata 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 hash code equas è giusto non dovrebbe ma ma c'è java doc non dovrebbe aspettare non dovrebbe che si che si non ritorno il problema è che l'edge dovrebbe collegarsi due vertici, due fermate che sono gli oggetti che ho inserito nel grafo prima quindi quegli oggetti con null non dovrebbero mai andare a finire nel grafo io stampo il grafo non sto stampando da qua questo direi che mi richiede più tempo per poter andare a verificare quindi non mi voglio bloccare adesso volevo solo poi per la prossima volta vi faccio sapere qual era il problema il terzo modo ve lo accenno solo ma in realtà è più semplice di tutti è questo se io anche eliminassi la stazione di partenza e me la facessi restituire dalla query avrei già subito un insieme di coppie stazione di partenza e stazione di arrivo tra le quali esiste una connessione allora questo è un caso che non si verifica quasi mai di avere già nella tabella del database già due colonnine che ti dicono vertici di partenza e vertici di arrivo che ti danno già praticamente l'elenco degli archi del grafo però però a volte questa informazione ce l'ho ma devo fare join di più tabelle andare a filtrare fare degli incroci per riuscire a trovare la partenza e l'arrivo però a volte è possibile costruire in un'unica query sola un risultato le cui righe siano esattamente gli archi che mi servono quindi in questo caso ci mi da sono 1400 archi che dovrebbero essere tutti gli archi che servono nel mio grafo è ragionevole non in questo caso come dicevo perché è un caso molto particolare che i dati sono già in una tabella il database scelto è molto semplice è normale tranne in questo caso che questa interrogazione magari richieda del tempo magari avete una query che gira per 2, 5, 10, 30 secondi ma poi vi da tutto tutto ciò che serve direttamente per per costruire gli archi del grafo quindi sono tre poi lo implemento con calma sono tre approcci diversi il primo dei quali fa lavorare tante volte il database con una richiesta molto semplice però è più semplice da pensare da implementare perché io dico ok questi due vertici dati due vertici devo semplicemente decidere se sono collegati o no oppure devo decidere qual è il peso dell'arco che li collega se fosse un grafo pesato quindi è più facile diciamo così da progettare ha il difetto che per grafi grandi il numero di interrogazioni da fare cresce quadraticamente n4 l'opzione 3 quella adatta da questa query è lavorare il più possibile con il database per avere un risultato finale che sia il più vicino possibile già alle informazioni che mi servono per costruire il grafo avrò delle query complicate devo essere bravo a gestirmene potranno essere lente anche queste query qua ma tendenzialmente dovrebbero essere più veloci rispetto a fare tante query piccole no? perché stiamo sfruttando il database per il lavoro che deve fare che sa fare cioè incrociare dati poi c'è la versione di mezzo che è quella di dire beh non faccio un arco per volta non faccio tutto in un botto ma faccio un vertice per volta e per ogni vertice vado a a trovare tutti gli archi non di tutto il grafo ma solo di quel vertice lì in questo caso abbiamo cercato tutti gli archi uscenti da quel vertice quindi questa è una complessità intermedia nel senso che chiaramente il ciclo esterno è uno solo quindi eseguo n volte non n quadro volte una query che ovviamente è più complicata di quella del caso 1 quindi qui dentro ci dobbiamo mettere per scegliere quale strada affrontare diversi ingredienti uno la dimensione del grafo quanti archi ha quanti vertici ha e quindi se è piccolo chi si frega vanno tutte bene scegliamo quella più semplice due la dimestichezza che abbiamo con SQL cioè per passare dal punto 1 al punto 2 al punto 3 dovrò fare delle query più complicate allora mi sento in grado di farle giuste soprattutto ma perché poi nella pratica e quindi combinando queste due vabbè dall'altra parte se vogliamo la dimestichezza in java ma alla fine si tratta comunque di lavorare con delle collection quindi questo dal punto di vista del codice java è praticamente equivalente non è che sia più o meno complicato no? allora nei vari esercizi nei vari problemi proviamo ogni volta a ragionare poi magari bisogna farle funzionare anche giuste cosa che non sono riuscito a fare adesso ma ci sta fa parte della vita del debugger e non mi sono portato la paperella quindi non sono riuscito a farlo funzionare ma facendo le funzioni correttamente sono uno spettro di possibilità poi quando più avanti parleremo dell'identity map ci darà un modo per semplificare sia il caso 2 che il caso 3 che ogni volta dobbiamo valutare vedrete che negli esercizi diciamo così nei temi di esame eccetera la creazione dei vertici del grafo di solito è banale la creazione degli archi invece richiede un pochino più di lavoro con questo diciamo così praticamente di tutti i temi di esame degli ultimi due anni a occhio croce potete già cominciare a fare il primo punto perché in tutti i temi di esame c'è un database c'è un grafo da creare poi su questo grafo bisogna fare delle analisi delle ricorsioni altre cose che ci arriveremo non ci siamo ancora arrivati però la creazione del grafo che è presente in tutti i temi di esame è qualche cosa che potete già cominciare a fare e possiamo anche già faremo anche appunto gli esercizi insieme adesso vi lascio un po' di pausa prima dell'ora successiva si